Il problema è questo, non ci sentiamo assolutamente ascoltati e credo sia un discorso ormai romanzato o chissà quanto che i ragazzi devono essere ascoltati perché i ragazzi sono alla scuola, è diventata una poesia però non lo fa nessuno insomma. Facciamoci sentire perché ci stanno rubando il futuro, questo è il grido che arriva dagli studenti della provincia di Arezzo che si sono ritrovati in una manifestazione al Prato. Noi siamo qui in questa manifestazione Homo in Sapiens per richiedere al Ministero un dialogo continuativo nel tempo che riguardi come primo passo concreto l'esame di Stato e successivamente la revisione del percorso di scuola lavoro e di PCTO le modalità di valutazione, le competenze valutate, inoltre l'educazione civica per favorire lo sviluppo appunto di un senso critico nei ragazzi che può aiutare la nostra nazione e il nostro mondo. Gli studenti arrivano da tutte le scuole superiori dell'Aretino. La nostra maggiore preoccupazione, ci racconta una ragazza, è affrontare la seconda prova d'esame senza un'adeguata preparazione. Ci sono studenti che dovranno cimentarsi in una prova di laboratorio che praticamente non hanno mai frequentato in questi due anni. Questi due anni non sono stati affatto normali per noi. Chi deve fare una seconda prova di laboratorio non ha avuto accesso ai laboratori per anni. Chi deve fare versioni in direttino e greco che non le fa da anni. È un esame che manca di oggettività e inoltre si valuta poco il percorso dei cinque anni dei ragazzi perché alla fine è un esame che deve valutare cinque anni dove una persona cresce e non si può limitare a un tema o domande chiuse o aperte quello che sarà. Che cosa vi manca e che cosa vi è mancato anche in questi due anni di pandemia di più? Allora ci è mancato principalmente l'ascolto, il poter pensare di cambiare la scuola insieme perché abbiamo vissuto la scuola come un ambiente asettico, lontano, in cui non avevamo la possibilità di confrontarci con i nostri professori e i nostri compagni e di conseguenza ci siamo ritrovati isolati nelle nostre case e vedere che il ministro dopo tutto questo tempo e tutti questi problemi cerchi di far ripartire la normalità non dalla preparazione ma dal metodo di valutazione lo troviamo assolutamente ridicolo perché chiaramente per valutare dei ragazzi ci vuole che le competenze valutate siano quelle che durante gli anni sono state appunto migliorate. Quello che ci tenete a ribadire è che è anche una manifestazione assolutamente apartitica. Esatto, non ci sono partiti, nasce dall'unione dei rappresentanti di istituto delle scuole di Arezzo che in libertà come istituzione diciamo si sono messi insieme per poter creare questa manifestazione sulle richieste dei ragazzi che sono venuti da noi a parlarci e a chiederci di fare qualcosa per essere ascoltati e per questo noi siamo qua oggi.